E le nuove referruzzi. Dopo aver litigato violentemente con Daniele, e non aver risposto a tono, se la prende con i ragazzi presenti. Voi non mi credete perché io sono diversa. Dite che Daniele non può provare attrazione per me a prescindere. Lo fate sempre. Non è la prima volta. Io mi sono rotta di questa situazione. Basta. È tutta la vita che accade questo. Prima gli uomini vengono con me, e poi si vergognano di avermi conosciuto fingendo di non conoscermi. Questo è il caso di Daniele che prima mi bacia. E mi coccola. E poi se ne vergogna. Non mi sto inventando nulla. Non sono una pazza. I ragazzi sbigottiti non sanno più cosa risponderle, perché le nuove a toni molto accesi reagisce malissimo ad ogni commento dei ragazzi. Nella diretta del Grande Fratello vedremo sia i confessionali, sia le tenerezze che lei dice di essersi scambiata con Daniele. In questo modo potremo effettivamente capire cosa c'è stato tra loro. Canale YouTube Fabio Pecce iscriviti e attiva la campanella.